Buongiorno, oggi tratterò una relazione abbastanza complessa ma fondamentale e importante perché in qualche modo mette in atto una visione molto critica di ciò che sta accadendo oggi, di un tramonto forse irreversibile di una città. Il titolo della mia relazione è Dissoluzione delle copie delle coscienze simulate, resurrezione futuribile, forse di una consapevolezza autotrascenza. Allora dobbiamo iniziare a partire da un concetto che è fondamentale, la qualità dell'esperienza, la qualità che costruisce una dimensione fondamentale della coscienza che è stata chiamata Equalia. Equalia, da una nota Wikipedia, sono nella filosofia della mente gli aspetti qualitativi delle esperienze coscienti. Ogni esperienza cosciente ha una sensazione qualitativa diversa dall'altra. Ad esempio, l'esperienza che troviamo nell'assaporare un gelato è qualitativamente diverso da quella che cogliamo quando contempliamo la gioconda di Leonardo. Però c'è da aggiungere un aspetto che è fondamentale quando si parla appunto dell'esperienza che proviamo nell'assaporare un gelato. È riducibilmente individuale perché ciascuno di noi con lo stesso gelato prova un'esperienza interna, perché non stiamo parlando dell'esperienza esterna, dell'azione che possiamo vedere come quando filmiamo una scena, ma di un'esperienza interna che ha una qualità irriducibilmente inutile. Se questa qualità viene compromessa, e poi vedremo come, sarà un disastro. Riprende Wikipedia, i quali sono estremamente specifici, e caratterizzano essenzialmente le singole esperienze coscienti. Quindi le singole esperienze coscienti sono determinate dai quali è fondamentale. Quando comunichiamo, non comunichiamo unicamente informazioni, né soltanto emozioni. Io aggiungerei anche sentimenti. I sentimenti sono la costruzione evolutiva delle emozioni, degli stati della mente elaborati nel tempo che strutturano una persona. È una relazione soprattutto, non una persona soltanto, ma attraverso l'altro. Quindi, quando comunichiamo, non comunichiamo unicamente informazioni né soltanto emozioni, ma una consapevolezza di coscienza che vive soltanto attraverso la condivisione globale dell'informazione integrata. Cioè, l'informazione che non è un'informazione ridottiva, ridotta alla dimensione spicciola del linguaggio, dell'informazione, dei contenuti puramente razionati, ma di processi profondi, sensoriali, affettivi, ritmici, pulsionali, che si mettono in atto, si integrano in un intero più vasto. Se questo intero non lo prendiamo come considerazione, noi consideriamo un'esperienza integrata, abbiamo una visione esclusivamente ridottiva, quello che sta avvenendo oggi nella comunicazione. Quindi non ha senso parlare di ascolto e di concentrarsi, cioè di considerare, di centrare l'idea dell'ascolto, se alla base qualcosa ci sfugge, che è l'informazione integrata. Oggi invece consumiamo l'esperienza, la dissipiamo, la copiamo, questa è la cosa più drammatica, noi l'esperienza la copiamo e trascriviamo Clomi, copie uguali, ma prive di originalità, cioè nel momento in cui questi quali interni, questo sentire ridusciti, viene devastato, che si trasforma nella copia, Perché siamo abituati a copiare immagini, siamo bombardati da immagini, siamo bombardati da schematizzazioni mentali, da pensieri veloci, da scorciatoie cognitive, piuttosto che sono necessarie in alcuni ambiti, Ma non possono essere generalizzati, li vengono, lo scambio sociale genera una coscienza simulata, priva di storia, di contenuto, per questo motivo parlerò di coscienza autotrascesa. Quando noi diciamo che siamo consapevoli di un brandello di informazioni, dice uno scienziato francese, intendiamo semplicemente questo, L'informazione è entrata in un'area specifica di immagazzinamento, che la rende disponibile al resto del cervello, questo è interessantissimo, cioè è entrata questa informazione in un'area specifica, perché deve essere decodificata, ma rispetto al computer, non si ferma lì, la deve rendere disponibile all'interno cervello, ci deve essere un processo di massima integrazione, affinché questa informazione si trasforma in qualia, si trasforma in sentire, in qualità, se questo viene a mancare, allora non c'è coscienza, c'è comunicazione come tra due intelligenze artificiali. Quello che purtroppo, ripeto, sta accadendo, dovremmo dunque parlare di stati, livelli, contenuti e qualità di coscienza, scrive Baudelaire, esistono profumi freschi come carne di un bimbo, dolci come l'uomo, quindi questi profumi che sono freschi come carne di un bimbo, questa è un'esperienza che è internalizzata da parte di quali viene metaforizzata, perché non si attrae di una carne di bimbo, ma qualcosa che crea un paracone metaforizzato dove il campo semantico di questi profumi incorpora un processo attraverso l'esperienza integrata, quindi entro nel senso percezioni, entro nel processi di immaginazione, entro nel processi di trasformazione e degli altri corrotti, ma non è una corruzione nel senso tradizionali, corrotti da questa essenza cura, ricchi e trionfanti che hanno l'espansione proprio alle infinite cose, capite? Quali sono i quali a dimodellare questo processo di espansione? E' chiaro se lui vede in tutto ciò questo processo, in un'informazione integrata è quando io non ricevo questo tipo di informazione, ma quando di questa informazione che copio e trascrivo nel mio interno, riesco a produrre processi mentali ed altissima integrazione, quindi simplici. Se questo non avviene c'è una riduzione dell'informazione, che diventa puramente logica, come potrebbe fare una macchina. Grazie a tutti. L'essenza della coscienza è nell'essere osservatore degli osservato, quindi osservatore, cioè chi è che osserva? Il cervello osserva e nello stesso tempo viene osservato, cioè non c'è osservato da solo, ma c'è osservato e osservatore, quindi osservatore ed osservato nello stesso tempo. Quando questi due sistemi si mettono insieme c'è una massima integrazione, c'è coscienza. Io non osservo il reale, ma il reale che è in me viene osservato dalla mia mente e forma una consapevolezza di questa osservazione. La coscienza è una combinazione di osservatore ed osservato all'interno della mente. Da qui scaturisce ciò che si definisce senziente o rappresentazione interna dell'economia. La teoria dell'informazione integrata è una teoria proposta originariamente dal neuroscienziato Giulio Tononi nel 2004. Ma non sto qui analizzando la teoria dell'informazione integrata che è complessissima. Sto prendendo alcuni frammenti di questa grande intuizione e la sto riportando nella relazione, e nella relazione tra coscienze, non relazioni tra informazioni che si scambino, cose che avvienono nelle scuole, ma tra informazioni di coscienze a livello di alta integrazione, è una cosa completamente diversa. Quindi, che è questa teoria dell'informazione integrata, cerca di fornire un quadro in grado di spiegare perché alcuni sistemi fisici, come il cervello umano, sono coscienti e quali caratteristiche dovrebbero possedere altri sistemi fisici per essere anch'essi considerati coscienti. Caprezzo da una nota Wikipedia. Sto prendendo alcune note di Wikipedia perché qualcuno potrebbe dire ma guarda che farneticazione che fa il dottore Scherz. Io sto prendendo le cose oggettive, le sto riducendo perché sono molto complesse, ma tutto ciò che dico ha dei riferimenti ben precisi. La coscienza è una combinazione di osservatore e osservato all'interno della mente. Da qui scaturisce ciò che si definisce senziente o rappresentazione interna dell'esperienza. Qui sono io che faccio, qui sono io che leggo, sono molte cose che sono mie che leggo, poi ogni tanto prendo qualche citazione. Nella nostra realtà l'esperienza si copia, ma non si miglia, ma l'esperienza è coscienza. E lo dicono dei grandi neoscienziati. Ma se l'esperienza si copia, la coscienza muore come qualità di coscienza. Adesso è un livello di quantità di coscienza presente nella copia. che si trasforma quasi in una coscienza artificiale. Intelligenza e coscienza saranno seppate. Si tratta di qualcosa che noi prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale non avevamo considerato. Credavamo che l'intelligenza fosse simulino di coscienza. Un processo intelligente può essere intelligente nel senso che risolve i problemi come una macchina, come potrebbero forse alcuni animali, come gli insetti, che hanno livelli di intelligenza a risolvere quei sintomi, potrebbero, lì non lo sappiamo, essere delle intelligenze pure senza coscienza, come potrebbero avere un minimo di coscienza. Perché in quel caso ci troviamo di fronte a una coscienza che non ha una temporalizzazione, noi siamo coscienti dello spazio e del tempo, ci rappresentiamo il passato, il presente e il futuro, lo prevediamo, anche se poi sarà diverso, ma abbiamo un percorso che più tardi faremo delle cose e che abbiamo fatto delle cose prima, mentre invece la fisicità è formata di istanti che si susseguono nel tempo che è senza coscienza. Giorgio Ballorti Cara, che è un neuroscienziato, distingue la coscienza dall'intelligenza. La prima è funzionale alle abilità cognitive complesse, la seconda è connessa invece alla dimensione del sentire. Qui si apre un capitolo infinito. Quando l'intelligenza con le emozioni si fanno coscienza, sono ben integrati. Noi potremmo avere delle situazioni non integrate delle emozioni. Quello che succede oggi in una società borderline, una società patologica, dove vengono dei disastri, dei grandi disastri, anche criminosi, che si spiegano solo da un punto di vista giornalistico, banalizzando, e portando nei media, nei social, nella realtà, delle scorciatoie schematizzate, dove poi si danno delle risposte schematizzate, stereotipate, pregiudiziali, che non ci spiedono ciò che avviene. Quando l'intelligenza con le emozioni si fanno coscienza, sono ben integrati, si genera un equilibrio d'essere per la nostra vita. Tuttavia oggi queste due funzioni si stanno separando sempre di più, queste tre mani. Qual è la differenza tra l'intelligenza cosciente e l'intelligenza cura? Da una parte abbiamo un processo di clonazione di colpi che si annulla e separa la coscienza e l'intelligenza. Abbiamo detto che non copiamo l'intelligenza, copiamo le emozioni, non internaziamo. Allora si sta creando questo processo. Dall'altro è un tentativo molto grave, molto pericoloso, un tentativo di generare una supremazia autarchica che controllerà il mondo, di essere intelligenti quasi privi di coscienza qualitativa. Quindi persone pericolosissime che saranno nelle stanze dei bottoni, che sono le stanze che controllano i social media, che controllano il mondo. Con le scuole private, con i programmi tecnologici, con l'esclusione delle materie umanistiche, si seleziona una forma di intelligenza digitale che esclude sempre di più la coscienza. Si va verso una coscienza artificiale. Soltanto l'elaborazione, la creatività, la compassione, il compatos e l'intelligenza integrata, che è una cosa diverso dall'intelligenza pura, attraverso l'interazione circolare, producono una coscienza, una interazione circolare. Comunicazione circolare si parla spesso, è un discorso un mezzo e un mezzo. Ma non una comunicazione circolare, puramente di informazioni, ma una circolarità integrata, dei quali è una cosa diversa. Copie e cloni. Oggi le relazioni si copiano, non si trasformano. Sono figlie di fotocopio. Si copiano piercing, tatuaggi, si copiano i sorrisi, gli schemi del corpo, gli atteggiamenti, le posture, i pensieri, le emozioni. Quindi se si crea un processo di copia, cioè di trascrizione, non trasformazione, non plasticità nuova del genere, ma riproduzione. La realtà interna, qualitativamente e contentisticamente, collassa. La coscienza di sinistro. Bauman ha parlato di società illimita. non si parla di due fatti. Io ho utilizzato il termine liquido, l'ho trasposso alla coscienza. La coscienza. Si. Peccato che il morto Bauman, che fosse stato ancora vivo, sarei stato felice di potermi incontrare e parlare di questo aspetto. I conflitti presentano alcune possibili. Siamo in una società conflittuale, una società che conflince con tutti. La negazione. Non è vero quello che tu dici, è falso. È vero quello che dico io. E se non c'è integrazione, ma c'è negazione, c'è conflitto eterno. la risoluzione sarebbe il momento più felice quando cerchiamo di risolvere il conflitto. Non entro in questo settore da te, se non finirei più a parlare. Ma potete approfondire questi aspetti per risoluzione del conflitto. La stasi. Resto impantanato. E io provavo una nuova via. La trascendenza. La poesia ci ha insegnato, come ho fatto notare prima, questa metamorfose, questa trascendenza. Quindi noi il conflitto lo possiamo trasformare. Non semplicemente elaborare e comprenderlo, ma trasformarlo poeticamente. Trascenderelo in una coscienza superiore attraverso un sistema integrato. Mi piacerebbe soffermarmi su questo. Vi do un spunto. Poi, eventualmente, si potrebbe aprire un capitolo solo su questo. Una coscienza per essere, esistere, deve soggettivizzarsi. però può negarsi nella sua copia e dissolversi. Ma può trascendere attraverso la sua notazione. Ecco qui il concetto di coscienza. Auto. Trascendere. La cosa più straordinaria che tu possa fare, tu persona, è diffondere una nuova idea, dice un grande scrittore americano, naturalista. Quindi, la cosa più straordinaria che tu possa fare è diffondere una nuova idea, perché il nostro mondo è in pericolo per l'assenza di buone idee. Il nostro mondo è in crisi a causa della mancanza di coscienza. Il nostro mondo è in crisi a causa della mancanza di coscienza. Questo scrittore naturalista americano dice quello che dice. sto dicendo, vi sto portando questi referenti. La messaggistica ha messo in atto una drastica riduzione nell'essere presente a se stessi. Perché coscienza significa essere presente a se stessi. Non sei più presente a te stessi. Quindi perdi la coscienza, la dissolvi e ti annulli dentro quel sistema. Più le cose si scambiano, più si abbassa il livello qualitativo della coscienza. i suicidi del 2021 dati dell'organizzazione mondiale. Si tratta di un indice impressionante. Un milione di suicidi ogni anno con una media di un suicidio ogni 40 secondi. Ogni 3 secondi si registra un tentativo di suicidio. Il trend è in crisi. Segnalazioni relativi al suicidio. Telefono Amico in Italia 2021 Telefono Amico in Italia 6.000 dice che 6.000 richieste d'aiuto arrivano riguardo pensioni suicidio. Le telefonate d'aiuto sono aumentate del 55% rispetto al 2020 e quadruplicate rispetto al 2010. Se noi questo lo prendiamo semplicemente come dato, come ci hanno insegnato i giornalisti, come ci hanno insegnato a fare non in maniera integrata, quindi a rabbio e questa cosa non la prendiamo come una meta-analisi, non capire che questo processo è la conseguenza di una caduta progressiva della coscienza e così la coscienza si annulla impazzisce, non riesce più a vivere, si risolve, si suicida e poi si suscita realmente e in più depresione, si disorganizza. La coscienza è un'esperienza irriducibile. di un'esperienza 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 di stanchezza e quindi abbiamo momenti in cui siamo poco presenti a noi stessi, quando stiamo per addormentarci la coscienza tende a dissolvere, poi scompare, dopo riappare in una forma diversa, non solo di coscienza, di soli, poi ritornare e poi nella vecchia della fase di transizione abbiamo uno stato in cui la coscienza è molto bassa, esistono livelli qualitativamente bassi come per le gravi patologie, quantitativamente bassi e anche qualitativamente bassi nelle malattie italiane, ma quando noi siamo presenti a noi stessi, facciamo un esempio, ogni volta che si regala una rosa senza aver vissuto la relazione con la rosa, senza averla respirata nell'odore, nel colore, nella forma, nei suoi simboli, senza averla empatizzata ed internalizzata, guardate, l'empatia in ogni specchio che ci permettono di copiare e di trascrivere nella mente un'espressione vissuta, in questo caso l'immagine della rosa che viene trascritta in noi nella sua emozionalità, non solo nella copia della sua immagine. e che cosa succede? Cioè noi stiamo avendo un rapporto con la rosa attraverso un livello di informazione integrale, a livello di altissima integrazione. Se abbiamo una bassa integrazione di un fattore spicciolo, consumistico, regaliano, noi stiamo regalando non una parte di noi, dei nostri quadri, ne stiamo offrendo all'altro, ma stiamo regalando una semplice rosa. Come avviene a noi il consumismo? Che viene consumato? E viene consumata anche la relazione affettiva con l'altra persona. Ma è difficile poi, in un'esperienza simulata, riuscire a distinguerla da un'esperienza vissuta. Oggi le esperienze vissute e quelle simulate si scambiano a tal punto che si confondono. Se dovessimo riuscire a costruire una coscienza artificiale, come sarebbe questa intelligenza artificiale? Probabilmente potrebbe essere una coscienza che comprenda a se stessa i livelli di coscienza in un senso sentibile, pur essendo cosciente. Un modello che oggi si sta diffondendo non artificialmente, ma nell'artificialità della gente. Ma non sapremo mai se si tratterà di una coscienza reale o di una coscienza simulata. Ma questo non avviene solo nella coscienza, nella possibile coscienza artificiale, ma nella coscienza del presente che è una coscienza artificiale. Attraverso la duplicazione delle copie si elimina l'esperienza, quindi si elimina la coscienza. Oggi la coscienza sociale è prevalentemente simulata, perché è priva dell'esperienza. Un neuroscienziato ci dice che la coscienza è esperienza. Si genera una condizione di comportamento puro, beale orista, puramente comportamentismo puro, senza vissuto, senza qualità. Immaginiamo le relazioni umane che si stanno trasformando in coche e in comportamenti puri. Comportamenti, come poco fa ho detto, la separazione tra intelligenza e l'esperienza e l'esperienza, tra intelligenza e coscienza, separazione tra coscienza e comportamento. Una macchina può avere un comportamento, può fare delle emozioni, può decidere, può trovare delle soluzioni, una macchina intelligente. Si tratta di stati di piacere che non solo si vivono ad ogni risposta di bip, che vivono a selfie, ma che si copiono nella riciclocità. Tutto ciò determina quello che Bobbillard considera divorare ed esperienza. Noi divoriamo l'esperienza. La mangiamo, la cannabilizziamo e poi la espegliamo. E che cosa resta? Nulla. Questo è il processo di velocizzazione e di consumo mediatico e di consumo social mediatico e di funzionalità delle chat, funzionalità dove le nuove generazioni vivono e costruiscono la loro esperienza all'interno di questi processi. Ricordo i dati che sono stati forniti negli anni passati dall'iPol, cioè l'Istat americano in questo settore. Si bloccano i cellulari 80 volte al giorno, si picchiettano 2500 volte. Gli adolescenti durante le ore di sonno tamburellano con il dito costantemente il televisione. Dice la professoressa Daniela Bucangeli che è una psicologa, professoressa universitaria e ricercatrice o scienziato, si picchietta numero di volte superiore. A quante volte abbiamo uno stato di presenza cosciente nell'arco di una giornata? Si picchietta che cosa? del cellulare. Cioè di presenza cosciente in noi stessi. Cioè il nostro rapporto compulsivo, dipendente con questo mezzo supera i livelli di coscienza a noi stessi. Perché la coscienza non è un appalto statico, il frutturante. Noi abbiamo una emergenza di coscienza tutte le volte che ci rappresentiamo a noi stessi qualcosa di stessa. Tutte le volte che avviene questo c'è un processo di coscienza. Ma se noi agguriamo tutto questo attraverso questi automatismi? Dove finisce la coscienza? E mi rilaccia tutto quello che ho detto prima. Fattori di rischio che si stanno determinando. La depressione infantile è una volta non esistente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un allarme, un vero e proprio S.O.S. riferendosi ai disturbi del rumore, del comportamento interiore. Si tratta di un alert di pandemia che mette in guardia sulla depressione infantile. Daniele Lucangeli riporta dei dati impressionanti riguardo la depressione infantile rilevati dalla Commissione Ministeriale. Il 73% dei preadolescenti e le scuole medie vivono una condizione di malessere. E poi ci sono alcuni che continuano a dire che sono frotto da queste cose e dicono che è meravigliosa questa società, che è vergognosa. Le azioni sono modulate dallo schermo, i tempi sono stati illuminati. Insight significa percezione intantanea, solerte di fatti esterni e interni. Noi siamo in insight, siamo dentro. Infatti diceva Allan Cangeli ciascuno di noi è in insight, non siamo affatto fuori. E se siamo dentro, come possiamo capire quello che sta avvenendo? Accorre che ci sia qualcuno che esca fuori per vedere quello che avviene dentro. Infatti c'è un silenzio matornale della gente. Una psicologa americana descrive la caduta multilazionale scolastica in America e riporta dei numeri sconcertanti. Poi aggiunge che le star della televisione, l'ho dimostrato con i dati, dice lei, sono ad un alto contenuto di narcisismo, fanno sembrare il narcisismo normale persino alla terra. Pensate che squandore, che società squandore. Poi aggiunge che nel 2015 le percentuali di adolescenti deprivate dal sonno è aumentata del 57%. E lo dice nessun libro di perconnesso a pagina 162. Allora, riprendo. Lo schermo opera una fusione delle parole con le immagini. Le parole non sono più integrate ma sciolte e liquefate. Quello che produce uno schermo, il potere di signo, uno schermo in internet, in tutti i video che si mandano, in tutto questo apparire totale, c'è una liquefazione totale di effusione delle parole con le immagini sino a sciogliere. La qualità in te. Siamo dunque giti. Lo schermo opera una fusione delle parole con le immagini. Le parole non sono più integrate, come ho detto prima, sciolte e liquefate. La moda abolisce ogni sentire, le connotazioni affettive ed equale. La coscienza diviene sminzata, frantumata e spalmata nelle copie. Si determina la propria sparizione. La moda abolisce ogni sentire, le connotazioni affettive ed equale la coscienza ne viene equifata. Si determina la propria sparizione. Quando la mia sparizione incontra la tua scomparsa, la tua sottrazione, cosa succede? C'è qualcosa di intermatico. Ci compariamo entrambi nell'incontrarci. L'automatismo schematico delle copie trascende negativamente la coscienza in un'eterna pulsazione e ritmo. Si tratta di ritmicità pura, di rilascio di piacere puro, sganciato, svincolato dai processi integrativi dell'affettività e della pulsazione. Io ti offro la mia sparizione nel piacere tu. In cambio, mi regali la tua simulazione, tu simuli te stessa o te stesso perché non ci sei. Diceva Goethe, una formula del primo ordine è logicamente valida se vera in ogni struttura del suo linguaggio. Noi oggi proferiamo delle verità singolari, particolari, ma non le compariamo. per cui diciamo questa cosa è drammatica ma questa va bene. Non ci rendiamo conto che questa cosa è vera se è vera in ogni parte, non se è vera solo in quella situazione. Noi prendiamo solo dei casi specifici, prendiamo un gruppo di ragazzi che si comportano bene, che funzionano bene, diciamo non è vero perché i ragazzi sono brillanti. Proviamo a fare un'analisi dettagliata e vedere tutte le cadute, i processi di analfabetismo funzionali statisticamente, analizzati, la capacità di usare un linguaggio senza comprendere, tutta una serie di cose e poi compariamole. Allora lì possiamo dire se questa cosa è vera, deve essere vera in un sottosistema. ecco il gioco giornalistico della selezione dell'informazione. La teoria dell'informazione integrata, che ho già risposto, considera le interazioni tra le parti che costituiscono un totale, prendendo in considerazione sia la qualità che la quantità, mentre oggi si ragiona solo sull'integrazione delle quantità, dei flussi di quantità e quindi c'è la distruzione dei quali. quindi queste qualità e quantità quando vengono integrate interagiscono in un sistema più alto. noi abbiamo una dimensione cosciente, internalizzata, quando le quantità con le qualità vengono integrate al massimo livello di integrazione. quindi abbiamo l'esperienza di essere coscienti del sentire. oggi viene abolita la dimensione qualitativa della coscienza. dopo la generazione Z, che conosciamo tutti, abbiamo la generazione Alpha, che ancora sono piccolini, che sono i nativi dal 2010. picchiettiano i tablet prima della penna, costruiscono un'esperienza interamente artificiale, non conoscono più i limiti di spazio e tempo, perché sono dentro questa esperienza artificiale, nel fluido del tempo abitano un'intelligenza artificiale e un tipo un'esperienza artificiale. basso livello quantitativo, qualitativo scusate, della coscienza. abbiamo un alto livello quantitativo della coscienza integrata e un basso livello qualitativo della coscienza. quindi non abbiamo la coscienza integrata che crea integrazione tra qualità e quantità contenuti. contenuti non solo come informazioni, ma contenuti come esperienza divisa. informazione semantica ed informazione integrata. informazione semantica. da puntare anche l'intelligenza artificiale, va in un vocabolario proprio significato. ma la semantica legata alla qualità, all'integrazione è un'altra cosa. la qualità dei quali si differenzia in rapporto ai processi integrati dell'esperienza. il consumismo genera un'entropia dell'integrazione, una dissoluzione dei processi integrati. dell'integrazione soprattutto significativa, sensoriale e emozionale. ora, abbiamo un capitolo penoso. Tullio De Mauro, grande linguista recentemente scomparsi, ci dice, verso i dati. dati che li salvano il 1999, 2000, 2004, 2005. immaginate per questo visione. il 5% degli italiani presenta a 1465 anni che ha nato a 20. attenzione, il 66, il 33% del campione ha difficoltà nella comprensione del significato testuale. un testo scritto che riguarda i fatti collettivi di rilievo, anche della vita quotidiana, che è alla portata della loro capacità di lettura e scrittura. cioè, loro si lo leggono, però hanno un livello di incomprensione funzionale. attenzione, il 38% degli italiani si allegge, quindi è una prezzo. un 33% poi c'è un altro 38%, sia i numeri che le lettere, ma presenta difficoltà palesi nella lettura. non sa leggere bene. il 20% della nostra popolazione usa la nostra lingua e la comprensione è molto limitata. se sommiamo tutti questi dati, dice fuori un analfabetismo di funzione che diventa più importante. e non stiamo parlando di un analfabetismo di qualia, di qualità del sentire, perché potremmo essere in una struttura di quantità dell'informazione. attenzione, con un'esperienza integrata bassa della crescenza, che non ci salva assolutamente. poi descrivo gli attaccamenti. durante la crescita, la funzione degli attaccamenti bambino, mamma, gli attaccamenti sicuri, sono quelli che permettono di avere una crescita equilibrata, sana, dove possono integrare poi gli attaccamenti insicuri. abbiamo mamme che stanno al tablet, moltissimo, al cellulare, su internet, e hanno un rapporto cadente di comunicazione, di una informazione fittizia, non integrata, perché hanno disintegrato questi processi. e i bambini si trovano di fronte a un attaccamento disorganizzato, irritante, non entro dentro questi processi, ho tutta una serie di problematiche. a questo aggiungerei un attaccamento di quali altamente basso di coscienza, che oggi dovremmo aggiungere, perché quando questi studi sono stati, non pensavano, questi aspetti. poi abbiamo una conflittualità enorme dei genitori, una conflittualità pazzesca, di altissimi livelli di separazione, e tutto questo che cosa c'è? genera un genitore contro l'altro, ma questo genitore contro l'altro mette il figlio contro l'altro. e l'organizzazione mondiale della sanità parla di alienazione parentale. il genitore vede e induce il figlio a odiare l'altro, comunque il suo papà o la sua mamma. e quindi ci troviamo di fronte a processi devastanti. è chiaro, all'interno di questi processi, quella generazione alfa di cui parlavo, entrono, ricostruiscono un'esperienza del tutto artificiale, perché è stata preclusa un'esperienza normale, perché è conflittuale. abbiamo parlato di negazione dell'altro nella comunicazione, di conflittualità della comunicazione, bisogna lavorare sulla trascendenza della comunicazione, sulla comunicazione poetica, recuperare il poeta, superare il conflitto, non solo elaborarlo, e non è facile, non abbiamo né operatori, né strumenti, né scuole, non abbiamo niente che riesce ad agire su questa voragine immensa, ma lavorare soprattutto su questo aspetto. Quindi siamo dinanzi ai processi di disaffezioni affettiva progressiva, un'onda d'urto devastante. ma per concludere faccio una citazione a Wagner. Wagner rappresenta un'inizio. Personalmente non mi era accorto nel Tristano, un'opera di Wagner, che confluiscono transizioni e si estrepassano perché sono atmosfere che colorano cresciute. Wagner produce nella musica delle atmosfere di stati d'animo transizionali che cambiano continuamente, in quasi una maniera necologica, perché questa transizione è portata alle estreme conseguenze. Però ci indica un rapporto interessante. Lui lo produce tecnicamente col cromatismo, ma non entro nel discorso musicale come i temi si trasformano e vengono rimodulate all'interno dei processi cromatici. ma queste transizioni, transizioni che si trasformano, soprattutto nel finale del Tristano, evolvono attraverso una modulazione ascendente, si innalzano automaticamente verso spazi infiniti. quindi è come se le coscienze si autotrascendano. E questo potrebbe essere un percorso salvifico che non possiamo mettere in atto in una società così malata, ma che possiamo proporre all'interno di piccoli gruppi. la possibilità di poetizzare la coscienza, musicalizzare la coscienza e trascendere. Nel Tristano sotto i processi di trascendenza avvengono nella musica. Nella scena finale si compiono attraverso un processo di trasfigurazione. si trasfigura l'esperienza. Cioè noi oggi viviamo di un'esperienza che muore, di un'esperienza che non è vissuta e non viene internalizzata. Un'esperienza che viene conflittualizzata, ma un'esperienza che viene trasfigurata. Un'esperienza che viene incorporata dalla poesia, dalla metafora, dalla trascendenza che eleva. Non è un caso che i popoli hanno sempre rivolto la loro attenzione verso un Dio, verso i Dei, verso la divinità. Perché questo processo di trascendere l'esperienza e incorporare questa trascendenza permette alla relazione di produrre amore. I temi nel Tristano vengono trascesi attraverso delle modulazioni continue verso l'altro. Con un cromatismo ascendente, e sarebbe bello parlare della tecnica del cromatismo musicale che non è del cromatismo visivo, ma è un processo che crea delle transizioni che si trasformano delle emozioni e dei sentimenti, fino a che poi si trasfigurano, e si innalzano fino alla dissoluzione della fisicità, in quel caso, come un rapporto sessuale senza corti, ma nell'aria. mentre quest'opera si sta proprio a questo processo dissolutivo della fisicità, noi potremmo riproporre questo momento come un momento rigenerativo di una fisicità integrata alla spiritualità, di una sessualità legata alla metafora della poesia, di una sensorialità e sensualità legata alla musica. Ma non solo alla musica di un processo compositivo, ma alla composizione di una musica nella relazione, dove si produce questa auto trascendente. sia proprio insieme e non hanno riproporre fuori fino, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una buona giornata.